Un caro saluto a tutte e a tutti. Siamo al consueto appuntamento dell'approfondimento del venerdì. Sempre graditi ospiti, persone competenti che si occupano, come ho sempre fatto anch'io, di lavoro, di società, di solidarietà. Adesso chi abbiamo? Sorpresa? Pierpaolo Barretta. Buonasera a tutti. Io ti chiamo Paolino. Certo. Una lunga frequentazione, adesso spiegheremo chi è il nostro ospite. Grazie. Intanto noi arriviamo dal mondo sindacale, questo va detto e siamo passati in politica. Siamo due iscritti del 1970, lui alla FIMCISL, io alla FIOMCGL. Però Paolo bisogna dire che c'era la FLM. C'era la FLM. La Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici. Unica sede. Avevamo un sogno, no? Avevamo un sogno. Siamo andati anche vicini, ci siamo andati. Poi le congiunture generali l'hanno impedito e oggi il tema ritorna ad essere di attualità. Ricordavo nei giorni scorsi che il 3 giugno del 1944 le tre componenti dei partiti che liberano l'Italia, quindi comunista, democratico-cristiano e socialista, col patto di Roma fondano la CGL Unitaria. Poi nel 1950 c'è la scissione e adesso forse questo sogno lo possiamo, noi l'abbiamo sempre coltivato, di nuovo coltivare. Quindi siamo nati nel sindacato dei Metalmeccanici. Poi eravamo due impiegati. Sì, è vero. Tra l'altro anche responsabili di quel settore. Io ricordo con te ci siamo occupati del famoso inquadramento unico dell'inizio degli anni 70. Ma cos'era questo inquadramento unico? È stato il... Fino ad allora erano praticamente pur un contratto unico, erano separati. Gli operai avevano delle normative, gli impiegati ne avevano delle altre. Ricordo che in fabbrica le mense erano separate. Le mense erano separate. Con quel contratto si decise di mettere insieme le due tipologie di lavoratori, quindi innalzando un po' la posizione degli operai, ma non dequalificando quella degli impiegati, ma rendendola diciamo più democraticamente eccessibile. Cambiavano anche il mondo, cambiavano le culture e in effetti fu un'operazione importante che è passata e condivisa sia dagli operai che dagli impiegati. Fu un salto di civiltà ma anche culturale importante. In tempi nei quali i diritti vengono tolti, forse vale la pena ricordare che a quei tempi gli impiegati avevano 4 settimane, gli operai non avevano 4 settimane, li abbiamo portati lì. Il trattamento di fine rapporto, gli impiegati avevano mensilità e anche gli operai avevano poi alla fine una mensilità, ma non avevano la mensilità, ma soltanto 100 ore e non 173. Quindi anni di grande conquista. Poi naturalmente Pierpaolo ha fatto una carriera sindacale importante, tra l'altro voglio anche ricordare che io e te abbiamo negoziato assieme l'accordo FIA del 1996. Lo ricordi sul premio di risultato, la firma posticipata di tre giorni da parte della FIOM che fece una specie di referendum, poi insieme unitariamente firmammo quel contratto superando le divisioni del 1988. Sono anche ricordi molto piacevoli, in fondo siamo quasi coetanei, tu sei del 49 o del 48, abbiamo alle spalle una storia importante. Sei diventato anche segretario generale aggiunto della CISL nella tua lunga carriera nella Confederazione e poi sei entrato in politica. Sei entrato io nella quindicesima, tu nella sedicesima e diciassettesima, io ho fatto tre e tu due legislature, sottosegretario. Con i tre governi della scorsa legislatura, con Letta, Renzi e Gentiloni, sottosegretario dell'economia e finanze al MEF. Ci siamo anche confrontati, io ero Presidente della Commissione Lavoro, quante discussioni abbiamo fatte sui soldi, perché tu maneggiavi i soldi, io bussavo, battevo cazza e naturalmente... Faceva parte del gioco dei ruoli. Faceva parte del gioco dei ruoli, insomma qualche soluzione come sempre l'abbiamo trovata. Quindi, diciamo, chiusa questa parte di presentazione, adesso Pierpaolo Barretta continua ovviamente a occuparsi con la sua associazione dei temi del riformismo e della solidarietà, anche il titolo dell'associazione stessa, che abbiamo lavorato assieme con Lavoro Welfare. Quindi, diciamo che questa vocazione per noi continua, al di là del fatto che non siamo più in Parlamento. Allora, prendiamo il toro per le corna e cominciamo a parlare delle cose che ci hanno sempre appassionato. L'economia. Allora, come la va dopo un anno di questo governo? Io non è che voglio infierire troppo, ma sicuramente gli indicatori di crescita, di cassa integrazione, gli ultimi dati sull'occupazione. Come li vedi? E poi il rapporto con l'Europa. Molto preoccupante la situazione. Preoccupante perché, diciamo, i dati tendenziali volgono tutti al peggio, non ce n'è uno. Peraltro è interessante notare che questi dati li dice il governo stesso. Se noi prendiamo il documento di economia e finanza, fatto un mese fa, circa un mese e mezzo fa, e guardiamo le tabelle che vengono pubblicate, vediamo che il primo a dire che il PIL scende, il governo, ora, in ottobre dell'anno scorso il governo progettò una crescita dell'1,5%, a dicembre già calò all'1%, a aprile parla dello 0,2%, l'Istat l'altro giorno ha parlato di 0,1%, cioè una differenza di 1,3 punti di previsione in sei mesi, già la dice lunga sulla affidabilità e questo ha una prima conseguenza nei confronti degli altri paesi europei e dell'Europa stessa, vuol dire che non c'è una solidità, diciamo, di governo. Inoltre la produzione industriale cala, ma c'è un dato di questi giorni che particolarmente mi preoccupa, che è una riduzione dei dati sulle esportazioni. Cioè il nostro è un paese fortemente capace di export, durante i momenti più difficili della crisi economica diciamo ci siamo salvati perché le nostre industrie esportavano, hanno una forte capacità di export e quindi se cala anche quel dato vuol dire che la situazione è complicata. E poi c'è lo spread. Allora attenzione perché sullo spread va rilevato un fatto sottovalutato, tutti si preoccupano dei picchi. quando va su. La verità è che oggi noi da quasi un anno siamo sempre attorno ai 300, cioè è come se avessimo sempre 38,5 di febbre. Pensate a una persona che non ha 42 tutti i minuti, ma che non è mai in una condizione di normalità. cioè 38,5 di febbre per un anno vuol dire che c'è qualcosa, qualche malattia profonda che va tirata fuori. In tutto questo pesa le scelte del governo che ha fatto delle scelte al di là di valutazioni di merito su quanto il reddito di cittadinanza può essere stato utile o meno. a me pare che bastava implementare quello che c'era. Resta il fatto che non c'è una politica di sviluppo. E quindi questa situazione è abbastanza preoccupante. Lo si vede dai difficili rapporti con la Commissione europea. Lo si vede da quanto nei giorni scorsi il Presidente Conte, che ha fatto una cosa singolare, ha fatto una conferenza stampa per dire agli italiani che dicessero a Salvini e Di Maio di non litigare, però in quella conferenza stampa dice due cose importanti. La prima, quanto è stato difficile evitare la procedura di infrazione a dicembre e quanto ci costerà la futura procedura di infrazione che peraltro è stata annunciata. Tra l'altro, anche qui c'è un po' un paradosso, perché i cosiddetti partiti sovranisti, nazionalisti o populisti, che dir si voglia, cercano delle alleanze, lo fa Salvini, lo fa Di Maio in Europa. Immaginano delle alleanze. Ma a te non sembra che quelli che dovrebbero essere gli alleati dei nostri partiti sovranisti sono quelli più duri sul comportamento dell'Italia? Sì, lo sono per due ragioni. La prima perché il principio sovranista è alternativo al principio di solidarietà. Quindi se uno pensa a una logica sovranista e antepone i propri interessi, quelli del proprio paese, del proprio territorio, a tutti gli altri, è chiaro che non è solidale nemmeno con gli altri sovranisti. Secondo che sono partiti e paesi rigoristi. Per esempio i più duri sul debito, sul nostro debito pubblico, che è un debito pesante, sono proprio i partiti sovranisti del resto d'Europa, che hanno mollato di colpo Salvini nel momento in cui hanno dovuto dire guarda che con questo debito l'Italia non va da nessuna parte. Quindi è assolutamente vero e diciamo a conforto è che nonostante tutto sto gran successo che in Italia c'è stato, glielo riconosciamo alla Lega, in Europa i partiti sovranisti non hanno raggiunto una percentuale tale, per fortuna, da influenzare l'orientamento generale delle politiche europee e quindi anche nella formazione della Commissione e nella formazione delle scelte non saranno in grado di influenzare. Il che però, attenzione, pone noi in una posizione, noi paese e chi come me ha l'opposizione, in una posizione di essere molto attento alle dinamiche europee. Perché la situazione è paradossale, non è tanto se l'Italia vuole uscire dall'Europa e che rischiamo che siano gli altri che non ci vogliono. Ci sono ormai mesi che Francia, Germania, Spagna si riuniscono per conto loro senza invitare il nostro paese. Tra l'altro, lo notavi, grande successo della Lega in queste ultime elezioni, indiscutibile. Quando uno vince, vince, il Partito Democratico credo se ne sia cavata, l'effetto Zingaretti si è sentito questa discontinuità. La Lega vince. Perché vince se l'economia va male? Ma allora forse questi slogan che la Lega utilizza, mescolando lavoro, le nostre vecchie bandiere, sicurezza dei cittadini portata all'esasperazione, stanno pagando nella coscienza delle persone, sull'economia prevale il tema della sicurezza, ci si sente insicuri, l'impatto della migrazione sposta a masse così importanti di persone. Come mai i vecchi elettori, gli operai del Partito Democratico, o non votano o votano per Salvini e per i 5 Stelle? La crisi è stata pesantissima e lunga, è durata quasi dieci anni, dal 2008 al 2014, in momenti più neri. E per riprendersi, no. Questa crisi ha sconvolto redditi, ha sconvolto posti di lavoro, quanti sono le situazioni di crisi che abbiamo attraversato e che tuttora sono aperte, sono 150 i tavoli di crisi aperti al Ministero e in questi giorni vediamo le cronache. Quindi c'è stato un livello di insicurezza profondo tra la gente, di disagio, di fatica e in assenza di una cultura della solidarietà forte, perché non dobbiamo dimenticare che la Lega e anche 5 Stelle, in questi ultimi, nella scorsa legislatura, per 5 anni hanno battuto pesantemente sui temi dell'insicurezza sociale. Beh, questi, diciamo, più che pagato, hanno creato domande. Vogliamo ricordare che negli ultimi 5 anni si è passati dal 40% di Renzi alle europee, al 34% di Salvini, al 30% di Di Maio un anno fa. Quindi evidentemente c'è una domanda sociale, che a me si accompagna anche ad una rabbia, l'Istat, Censi ci dice, il paese dei rancori, no? Che esprime domanda, 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 ma domanda molto volubile. Salvo il Partito Democratico, che ha avuto un incremento, diciamo, più o meno regolare, nelle ultime elezioni europee, tutti gli altri partiti, o hanno raddoppiato, o si sono dimezzati. Fratelli d'Italia, Forza Italia, ha aumentato raddoppiando. Berlusconi dimezzandosi, 5 Stelle dimezzato, Salvini, quindi vuol dire che ormai è in atto una mobilità, che però, mi permetto di dire, va intercettata sui contenuti. Cioè, il giorno dopo del successo del 34%, Salvini cosa fa? Rilancia, subito, su contenuti economici, la flat tax, eccetera. Quindi, la dimensione sociale è molto forte, e anche la reazione contro l'immigrazione. Se noi ci ricordiamo bene, all'inizio, anche nella dimensione europea, la Brexit è cominciata con la guerra all'elettricista polacco, che andava a rubare il posto. Anche il rifiuto dell'immigrazione, prima di essere razista, è un rifiuto di tipo economico. Cioè, io perdo il lavoro, io non ho sicurezza, e qua, diciamo, si espande la domanda, e temo di perdere ulteriormente. Sono temi sui quali bisogna riandare profondamente dentro, tra la gente, perché è lì dove... Quindi, il successo, diciamo, della Lega, in questo caso, potrebbe anche essere un successo transitorio, perché dipende dalla capacità di rispondere alle domande. Non a caso, se noi adesso vogliamo dire, qual è la cosa che ti ricordi del governo Renzi? Ti ricordi gli 80 euro, tipo piacere o non piacere, ma ti ricordi una cosa concreta. Purtroppo ti ricordi anche il Jobs Act. Sì, ma nell'opinione generale si ricorda di più quello che è stato dato. Quindi vuol dire che c'è un tema sociale che è ancora aperto, sul quale è opportuno accelerare anche un intervento? Io penso che, poi io la semplifico dal mio punto di vista, se hai le mie posizioni politiche, forse se la sinistra torna a fare la sinistra, riusciamo a recuperare una parte, se torniamo a essere solidali, se ci occupiamo, come si dice, dei problemi concreti di quelle persone, forse andare più a bracetto con gli operai che con gli industriali, forse ci servirebbe. Ma comunque questa è una notazione. Forse potremmo anche trovare la braccia con entrambi, perché la crisi economica è tale che abbiamo bisogno, siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, però siamo anche il primo paese al mondo per patrimonio artistico, quindi c'è anche tutta una parte di nuovo turismo e cultura. Quando parliamo di imprenditori, sono 4 milioni e mezzo le imprese in Italia, sappiamo che la piccola dimensione da 1 a 10 è il 90%, poi ci sono imprenditori come Bezos, che sono tra i maggiori evasori fiscali, perché sappiamo quello che succede per queste grandi multinazionali, diciamo, del web o dell'automazione molto spinta. Parlavamo di crisi, l'Istat nei giorni scorsi ha fornito i dati del mese di aprile, la disoccupazione ferma al 12,2%, il tasso di attività, cioè quelli al lavoro tra i 15 e i 64 anni, al 58,8%, noi sappiamo che in Europa la media è al 70%, quindi c'è molto da recuperare. Poi se facciamo, come si dice, il paragone fra quello che capita in questo 58,8% al nord e sopra media, il sud e sotto media, ma questi dati che dicono anche che l'occupazione giovanile purtroppo arretra, mentre aumentano gli ultracinquantenni, accanto alla crescita della cassa integrazione e delle crisi, le abbiamo viste, dal mercatone a Whirlpool la messa in cassa integrazione di 1.400 operai dell'Italcider di Taranto. Che cosa ci dice? Un ulteriore elemento di preoccupazione, immagino. Diciamo che la globalizzazione ha messo in moto degli inevitabili processi di ristrutturazione, di riorganizzazione economica ed industriale. Allora sono sbagliate le due posizioni estreme, una posizione diciamo tutta protezionista per cui si pensa che si possa chiudere le porte di casa autotutelandosi e al tempo stesso una posizione totalmente diciamo aperta che dice vabbè è inesorabile quello che sta accadendo. Ed è esattamente questo il punto, cioè che il Paese deve decidere quali sono gli assi sui quali può giocare se stesso e la sua capacità di competitività. Dicevamo prima, primo Paese al mondo per patrimonio artistico, turismo e cultura è un asse su cui giocare. Secondo Paese manifatturiero d'Europa guai a parlare di post-industriale, guai è assolutamente nevralgico. Terzo, la nostra posizione geografica è interessantissima perché noi siamo una diga naturale nel Mediterraneo che nel bene e nel male è tornato ad essere al centro, quindi la logistica, quindi industria, turismo e cultura, logistica sono gli assi principali. Ma c'è una politica di sviluppo attenta a questi tre aspetti considerandoli centrali? Ecco, questa a me pare la discussione che può anche capovolgere un po' le sorti dello stesso consenso e della stessa politica. Veniamo al rapporto fra Governo e Europa. Mercoledì scorso, Don Broschi, che è il vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea, ha fatto una dichiarazione a Sky TG24, cioè ha parlato del primo via libera della stessa Commissione Europea circa la procedura di infrazione contro l'Italia. Cosa ha detto? Ti riporto le parole della sua dichiarazione. È importante che l'Italia corregga la traiettoria fiscale, altrimenti ci sarà una procedura. Noi siamo aperti al dialogo con gli Stati membri, ma in questo caso è necessario prima una correzione della traiettoria fiscale. La strategia del Governo italiano, dice sempre Don Broschi, riguardo agli stimoli fiscali per promuovere l'economia, non sta funzionando. Invece dello stimolo fiscale atteso, l'economia italiana è rallentata notevolmente, adesso l'Italia è il paese che cresce più lentamente in Europa solo allo 0,1% e via discorrendo. Tu che ne dici di questi commenti? Allora, Tsipras che se ne intende, perché ci è passato dentro, ha detto recentemente che forse è meglio fare prima quello che altrimenti ti costringono a fare dopo. L'ostinazione del Governo italiano a non affrontare il tema della manovra correttiva è veramente incomprensibile. Io ricordo che il Governo Letta fece una manovra correttiva, eravamo in altri anni dove si stava ripartendo, però la facciamo di 0,2, 0,1 di Pil, ma la facciamo e quello ci consentì che cosa? La facciamo a metà dell'anno, ci consentì poi di avviare un negoziato con la Unione Europea che per ben tutto il periodo della legislatura ci ha permesso di avere una flessibilità importante che ci ha consentito di gestire il passaggio dei momenti più neri della crisi a un Pil che era sicuramente in crescita negli ultimi anni della legislatura. Quindi oggi, e infatti Dombrovski lo dice, non affrontare in anticipo un tema, una manovra correttiva minima e aspettare che cosa? Aspettare la prossima legge di bilancio, ma lì casca l'asino, perché solo la clausa di salvaguardia, sono 23 miliardi, aumentare l'IVA sarà un problema, ma non aumentarla sarà un problema per le finanze pubbliche. La flat tax, per come l'hanno proposta, nella sua versione minima sono 15 miliardi. Ci sono sicuramente 4-5 miliardi di cosiddette spese indifferibili, siamo già a 50 miliardi così. Quindi, insomma, in qualche modo non porsi questo problema e mentre l'economia va giù gestire i conti pubblici come se non ci fosse il problema ci porterà ad una situazione difficilissima tra qualche mese, a meno che non ci sia un retropensiero di non arrivarci proprio. Tutto il tema della crisi politica è latente a questa discussione. Cioè, chi farà la prossima finanziaria? E' chiaro che il governo di per sé, per sua natura, tende ad andare avanti il più possibile, ma i nodi sono profondamente evidenti e quindi tra tre mesi, quando si tratterà di tirar fuori due mesi e mezzo, si tratterà di tirar fuori i dati e le coperture, le risorse. Chi e come? Questa è un'incognita che preoccupa, ma non preoccupa il dibattito politico, deve preoccupare gli italiani perché le conseguenze sono una gestione dell'economia che poi ricade su reddito e sulle condizioni di vita. Certo che Mattarella ha un bel da fare per tenere, diciamo, la barca dritta, se no finisce, tu sei veneziano di origine, io di adozione, finisce come andata a finire alla Giudecca. Quindi bisogna tenere la barca dritta e a galla. Ma queste ultime vicende del governo, hai già spiegato, Conte ha fatto l'appello agli italiani, anziché fare una riunione al Consiglio dei Ministri, è abbastanza anomalo. I vicepremier hanno risposto via tweet e anche questo mi sembra abbastanza anomalo. Dopodiché eravamo al calor bianco, si è trovata un'intesa, adesso per quanto riguarda questa questione degli appalti, dello sblocco a cantieri, ma sono intese più di potere, di convenienza che non di contenuto? Si può pensare che avanti così si possa procedere oppure alla prima curva ci incartiamo? Insomma, senti puzza di elezioni oppure no? Le differenze di impostazione di linea tra i due azionisti del governo sono radicali. La stessa dibattito sui cantieri, sullo sblocco a cantieri, ne è la prova. Cioè, TAV sì o TAV no, non è una discussione da poco, ma sospendere o no per due anni la legge sugli appalti. Poi si può trovare anche un compromesso, ma è chiaro che è un compromesso che non dura su se stesso. Io sento puzza di elezioni, so che faranno di tutto per evitarle, però vedo che, diciamo, anche perché non ci sono alternative, parliamoci chiaro, il Partito Democratico l'ha anche detto che non è disponibile ad alleanze spurie, ma oggi i risultati delle europee sono l'esatto contrario degli equilibri in Parlamento. È vero che oggi c'è il Parlamento legittimamente eletto, ma è vero che l'opinione dei cittadini si potrà dire sì, ma sono le europee. Il risultato è che la Lega aveva il 17, c'è il 34, che Di Maio aveva il 32, quello che è, adesso c'è il 17 lui. Quindi non funziona così, un chiarimento va fatto, anche perché, ripeto, non ci sono alternative politiche. Un po' perché il Partito Democratico è in una fase di ripresa, ma non tale da poter tranquillamente dire eccoci qua, siamo pronti, bisogna essere realisti su quello. Può succedere di tutto, perché abbiamo visto prima, abbiamo detto come vanno su e giù i voti, però è un po' perché noi non siamo disponibili ad alleanze spurie, come potrebbero essere. Oggi, se cade il governo, un'alleanza PD-5 Stelle potrebbe fare una maggioranza, ma io condivido la linea, non siamo disponibili, quindi l'alternativa alle elezioni sono le elezioni. Non mi pare che, come hai detto, una maggioranza con i 5 Stelle insieme al Partito Democratico, penso che sia proprio fuori dal novero delle possibilità, ha fatto bene Zingaretti a chiarire questo punto, nessuno, 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 c'era in mente, credo che non sia proprio neanche ipotizzabile una idea di questo genere. Naturalmente, se si dovesse andare ad elezioni, bisogna sapere che siamo tra settembre e ottobre, no? La fine di settembre, gli inizi di ottobre, quindi bisogna in qualche modo essere pronti. questo Partito Democratico che è un po' in ripresa, che effetto ti fa? Siamo pronti per questa battaglia o comunque per fare un'opposizione più lunga se le convenienze di potere dovessero mantenere in piedi questo governo? Sì, io ho condiviso molto la linea che è stata proposta, quella che è stata definita delle liste aperte. Cioè, il Partito Democratico è un'alternativa se riesce ad essere il rappresentante di un largo e vasto, larghe e vaste sensibilità economiche e sociali. Andiamo a vedere i risultati delle europee e guardiamo le preferenze dei capi lista. Tutte persone molto diverse tra loro, no? Pisapia con una cultura liberale, ma fortemente di sinistra, Calenda con una cultura liberale, ma più, diciamo, di tipo centrista, chiamiamolo così, anche se è impropria la terminologia. Ma Bartolo, il medico, quindi in qualche modo esiste la possibilità di essere soggetti ampi, rappresentanti di un largo mondo sociale che è anche diverso al suo interno. Cioè, la vera scommessa sta nel portare a sintesi le diversità che ci sono nella società. E credo che questo sia un valore importante. I risultati elettorali ci dicono anche che alcune alternative, sia a sinistra, sia a più Europa, non hanno prodotto quell'effetto elettorale che sicuramente i proponenti pensavano. Quindi, prepararci alle prossime politiche con una percezione che è possibile allargare ulteriormente l'orizzonte. Nella chiarezza e nella capacità di portare a sintesi le diverse sensibilità può essere la carta vincente di un recupero vero tra l'elettorato, che può anche accettare che nello stesso partito, se c'è chiarezza, ci stiano appunto a Pisapia, Calenda, Bartolo, perché fa parte della complessità sociale del paese e quindi può essere benissimo finalmente un partito che non è arroccato, visto che in una posizione esclusivamente diciamo tradizionale, tipo ideologico, ma che raccoglie le istanze però le porta verso una unità di tipo riformista, cioè ha un'identità, non è un generico rassemblement. Ecco, questo mi sembra la carta vincente. Se siamo in grado di fare questo, allora forse le sorti anche, non solo del PD, ma delle elezioni cambiano. Bene, ringraziamo Pierpaolo Barretta. Grazie a voi. Abbiamo concluso la trasmissione, abbiamo finito il nostro tempo, lavoriamo su queste ipotesi. È chiaro, ci vuole un profilo, un'identità, credo che lui l'identità l'abbiamo, un'identità sociale, noi crediamo molto nell'uguaglianza e crediamo molto nell'arte del compromesso. Un grande partito, come può essere il Partito Democratico, ha al suo interno opinioni anche molto diverse, radici, culture diverse. Il punto è trovare l'equilibrio e il compromesso su una linea chiara. Credo che questo sia il grande ospicio che può aiutare l'Italia e non solo il Partito Democratico. Un caro saluto a tutte e a tutti. Grazie a tutti.